Taranto Pride 2019, libertavo cercando che si cara. Questo è lo slogan del Taranto Pride che si è tenuto ieri, partendo da Piazza Lebestat, giungendo fino a Piazza Garibaldi. Nel nostro gruppo giovani è molto attento a quelli che sono gli stereotipi e i pregiudizi e il binarismo entro il quale la società eteronormata ci costringe a vivere. Noi vogliamo viaggiare fuori dal binario, fuori dal binario è anche un modo di dire, qui Tarantino, non dire cose e non fare cose che non sono consuete. Noi vogliamo vincere questo obbligo ad essere quello che ci si aspetta da noi, vogliamo essere ciò che siamo e vogliamo che le nostre identità possano essere viste e vissute come le vediamo e viviamo noi, cioè fluide. Dante ci insegna che la libertà è un bene prezioso, il più prezioso che abbiamo è in questa nostra nazione, oggi la libertà sta assumendo un valore diverso perché davvero ci viene negata. Oggi noi siamo qui per parlare dei nostri diritti di persone LGBTQ+, ma non solo, anche per parlare di quella violenza che Taranto subisce da troppi decenni. Ci sono tantissimi giovani, tantissime giovani e con loro abbiamo costruito questo percorso. Il gruppo giovani di Arcigai Taranto è molto molto forte, abbiamo terreno fertile su cui lavorare. Devo dire che forse abbiamo seminato bene dal 2014 a oggi quando fondamo il Cicai a Taranto. Vogliamo essere liberi di esprimerci, liberi, libere, liberu di parlare, di poter essere chiunque, vogliamo essere anche un bellissimo unicorno colorato, vogliamo essere liberi e libere di poter esprimere ciò che pensiamo. E allora all'interno di questa società, ma a partire dalle scuole, a partire dai banchi delle scuole, noi rivendichiamo che ci siano dati a tutti gli strumenti per potersi emancipare. Perché una persona all'interno della scuola non deve vivere sotto copertura, una persona non deve vivere con la paura di essere bullizzato all'interno della scuola, una persona non deve avere paura di esprimere la propria sessualità. All'interno della scuola dobbiamo sentirci liberi di amare e liberi di essere. Ma c'è un po' che mi stai facendo scatenare in questa ultima coda del nostro Taranto Pride. DJ set di Don Ciccio alla cassa armonica di Piazza Garibardi al termine del Taranto Pride 2019. È un onore per me poter essere parte di questa cosa bellissima piena di giovani che stanno chiedendo una direzione diversa nella vita, nella società, nel modo di vivere comune in Italia. Non ci interessa il medioevo, abbiamo delle conquiste alle quali non si deve rinunciare in Italia. E' fondamentalmente come è stato detto durante la manifestazione, l'amore non conosce regole se è amore vero. Per cui è assurdo questo clima di ritorno al medioevo che molti esponenti, specie della Lega, ma sono grazie a Dio di tutte le parti, stanno imponendo altre cose. Per cui io sono a casa mia al Gay Pride a dire che solo l'amore vince e solo l'amore vince sempre. a dire che solo l'amore vince e solo l'amore vince sempre.